Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi voglio mostrarvi una ROM presentata e rilasciata da poco ma che promette decisamente bene, in quanto possiede delle funzioni uniche e che, a mio parere, rendono l'esperienza utente davvero piacevole. Lo sviluppatore è lo stesso della JellyBum e della BAM e la ROM in questione è la Inspire OS. È basata sulla Paranoid e ciò conferisce un'ottima fluidità dovuta alla leggerezza e la versione di Android è la 4.4.4 KitKat. Proprio come nella Paranoid, le impostazioni e alcune opzioni per la personalizzazione sono integrate nei vari menu. Per esempio, per modificare l'icona della batteria dovrete recarvi alla voce corrispondente, così come se vorrete le notifiche PIC, ovvero quell'opzione che consentirà allo schermo spento di attivarsi quando riceverete un avviso e di mostrarlo in una schermata particolare, le troverete in display. Ovviamente è anche presente, oltre alle notifiche PIC, un'altra funzione caratteristica della Paranoid Android, ovvero Over, che è attivabile dal menu a tendina principale. Nella tendina secondaria sono presenti Quick Settings e, premendo sull'icona in alto con i quattro quadretti, potremo modificarli. In più, nell'angolo in alto a destra di alcuni toggle sono presenti degli interruttori che mettono a disposizione più opzioni. Per esempio, tappando sul toggle del Bluetooth lo attiveremo e premendo sull'interruttore potremo rendere il dispositivo visibile o meno. Come potete notare il tutto è estremamente personalizzato in quanto il menu è bianco e le icone a fianco delle voci sono diverse da quelle dell'Android puro e, oltre alle classiche opzioni Paranoid Android, sono state aggiunte le voci Inspire OS e Temi. Temi è il nuovo Temchooser di Siano Jam Mod attraverso il quale potremo personalizzare con appositi pacchetti le singole parti della nostra ROM come lo stile, le icone, i caratteri, eccetera. Inspire OS ci consentirà invece di accedere a un menu con quattro voci, cioè Inspire Colors, Inspire Apps, Official Website e Google+. Le ultime due sono collegamenti per accedere rispettivamente al sito e alla pagina Google Plus del team, mentre la seconda, anch'essa un collegamento, vi rimanderà a una pagina del Play Store con tutte le applicazioni dello sviluppatore e vi consiglio di scaricare Android Tweaker 2 perché è veramente utile. Inspire Colors, quella che a mio parere è una delle funzioni principali della ROM e anche il suo punto forte, ci permetterà invece di agire in modo completo sui colori della barra di stato e della barra di navigazione. Perciò proviamo per esempio a selezionare l'app di Android Mod e, lasciando i colori automatici, avviamola con il tasto Play in alto a destra. Come vedete la status bar è dello stesso colore della parte alta dell'applicazione e le icone sono nere. Tuttavia potremo modificare il tutto a nostro piacimento, quindi disabilitiamo i colori automatici e inseriamo un grigio per la status bar e un azzurrino per le icone. Avviando l'app i colori saranno cambiati. Ok, è vero che una funzione simile si può ottenere grazie al modulo Exposed Tinted Status Bar che ho anche recensito, tuttavia la vera particolarità è il fatto che la barra di stato sarà seguita dai menu a tendina. Infatti prima quando vi ho mostrato i quick settings erano bianchi perché il colore della status bar nelle impostazioni è il bianco. Ora invece la tendina è grigia e le scritte azzurrine e questo vale anche per i toggle con gli strumenti. Se chiudiamo Android Mode e apriamo per esempio il Play Store sulla sezione applicazioni, la barra di stato diventa verde e i due menu a tendina la seguono. Perciò questa funzione è davvero fantastica. Altre due aggiunte molto carine sono il meto integrato all'interno della tendina principale che presenta qualche piccolo problema nel riconoscimento del luogo ma che per il resto è perfetto e il menu dedicato ai volumi che, anch'esso, come vedete a tendina. Ok, per quanto riguarda i launcher di default sono presenti il gel di Google e l'Inspire Launcher. Anche quest'ultimo presenta alcune funzioni interessanti e soprattutto è ricco di opzioni. Con uno swipe da sinistra verso destra apriremo un menu che ci metterà a disposizione alcuni strumenti come l'orologio, il meteo, il calendario ed i to-go rapidi e che potremo personalizzare tenendo premuto a lungo. Tenendo premuto invece su un'altra pagina dell'interfaccia si aprirà una schermata dalla quale potremo scegliere sfondi e widget e soprattutto accedere alle impostazioni del launcher che sono tantissime. È infatti possibile personalizzare ogni aspetto come la onscreen o il drawer delle applicazioni, scegliere se avere la barra Genius ovvero la ricerca locale o quella di Google Now, impostare le gestures, la dock, i temi e tanto altro. Come vedete alcune funzioni come per esempio la Intelli UI sono arancioni, ciò vuol dire che non sono disponibili nella versione Lite, ovvero quella che viene fornita con la ROM e che per attivarle bisognerà comprare la versione Prime che costa 3,65€. Le applicazioni di default sono essenziali, ci verranno forniti il lettore musicale Apollo, un file manager per i file multimediali e quello di SianogenMod, una torcia, i messaggi e news e meteo. Bene, vediamo ora la fotocamera. Camera che è quella classica dell'Android puro con, in più, la possibilità di salvare le foto in un'eventuale serie esterna, quindi proviamo ad effettuare qualche scatto. Facciamone anche senza il flash e come vedete la velocità di messa a fuoco e di scatto è buona. Andiamo ad osservare i risultati ottenuti e sono decisamente nitidi, perciò fotocamera che non dà problemi. Ottimo! L'unico bug che ho notato è che l'anello di sblocco è troppo grande e a volte alcune scritte nel launcher risultano tagliate. Tuttavia basterà ridimensionare i DPI e il problema verrà risolto. Quindi passiamo alle considerazioni finali. La fluidità è davvero notevole e la stabilità non è male. Durante questa settimana di utilizzo c'è stato qualche riavvio spontaneo, ma nulla di grave. La nota dolente al momento è, purtroppo, la gestione energetica. Io non sono mai arrivato a fine giornata e, in genere, con un uso medio e un paio d'ore di schermo totalizzavo intorno alle 13-14 ore. Non grandiosi come risultati, ma è uno dei pochissimi difetti che ho riscontrato e, inoltre, bisogna tenere conto del fatto che è la prima beta, perciò già con le prossime versioni arriveranno dei grossi miglioramenti. In più, oltre ai miglioramenti in termini di prestazioni, verranno inserite alcune funzioni come quella che potete vedere sulla pagina Google Plus del team. Da questi screenshot si può notare che nella parte alta dei menu a tendina sono riuniti tutti i pulsanti con le varie funzioni, come Ricerca, Meteo e Over, che in questo momento sono di fianco alla data, quindi ce ne staranno di più. Ok, la ROM, a mio parere, è davvero ben fatta e le funzioni come l'Inspire Colors, anche se purtroppo è a codice chiuso, quindi probabilmente non potremo vederla su altre ROM, sono un punto di forza, in quanto la rendono unica nel suo genere. Per questo il mio consiglio è di provarla soprattutto perché, appunto, con le prossime versioni sono attesi miglioramenti e nuove features. Perfetto, nient'altro da aggiungere se non che la lista dei dispositivi compatibili la trovate in descrizione con i rispettivi download, perciò questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace, condividetelo e ricordatevi di iscrivervi al canale. Per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!